Il generale Marco Bertolini, attuale presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutiste d'Italia, nonché uno dei generali più decorati e operativi delle nostre forze armate, è intervenuto al Palabanca sul tema i cristiani in Medio Oriente. I cristiani sono sicuramente il gruppo religioso più perseguitato al mondo. Questa è una cosa che nel nostro occidente, direi, scristianizzato da troppi anni, spesso ci dimentichiamo. Spesso ci dimentichiamo che le nostre radici sono proprio nel Medio Oriente. Le prime comunità cristiane sono nate appunto in terra santa. E' da lì che viene la fede che ha poi plasmato anche la cultura del nostro continente e che ha dato origine a quella civiltà europea della quale siamo tanto orgogliosi. Eppure spesso ce ne dimentichiamo. E' un peccato che non si presti attenzione alle sofferenze dei cristiani in Medio Oriente, prosegue Bertolini, perché ci danno grandi lezioni di vita, come ad esempio i copti d'Egitto o le comunità cristiane in Siria e in Turchia. Se noi prestassimo più attenzione a loro probabilmente faremmo una cosa giusta e di rispetto anche nei confronti della nostra civiltà. Grazie. 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 Grazie.